Ciao bambini! Ciao Emily! Ciao Francesco! Ciao! Ciao Emily! Non è che facciamo confusione con tutti sti nomi? Perché io mi chiamo Emily e anche lei si chiama Emily è vero come possiamo fare? Emily facciamo che tu ti chiamerai sempre Emily mentre io mi chiamo Emily Oh sì, così sarà più facile quindi tu sei Emily e tu sei Emily Esatto, bravissimi Dunque, che cosa ci fate qui? Ecco, oggi noi avevamo voglia di giocare con te con me Eh sì! Praticamente abbiamo nascosto un sacco di animaletti simpatici dentro tutte queste piscine Fammi vedere un po' qui dentro Oh, anche nel jelly buff Wow, anche nelle palline colorate Bene, quindi oggi mi divertirò Sì, vediamo se sarei brava a trovarli tutti Io sono bravissima Io sono bravissima, vedrete Da dove volete che inizi? Non lo so, potresti iniziare da... Le palline Queste qui, guarda Ah, va bene Ok Allora, bambini aiutatemi Iniziamo a cercare lì dentro Mmm, queste palline colorate sono proprio gustose Lo sapete? Mmm Oh sì, infatti ti video tantissimo Beh, ma perché non vieni con me a cercarle? Oh, sarebbe un'ottima idea Allora vengo anche io qui dentro Oh, quanto mi piace Tutte queste palline Poi rimbalzano Guardate Oh, Emily Oh, scusami Tu sei Emi Emi, guarda Ho trovato qualcuno Wow, bravissima Emily Abbiamo trovato il primo coniglietto nascosto Ciao, tu come ti chiami? Io mi chiamo Bianchino E sono un coniglietto Oh, bene Quindi tu sei il primo animaletto Allora Ti metto di qua E andiamo avanti Dai Emi Cercalo tu stavolta Va bene Dunque, dunque Oh, mi sa di averlo trovato Guarda Emily Un cagnolino Oh, ciao cagnolino Uff, uff Mmm Come ti chiami? Ascar Mmm, che bel nome Dimmi Oscar C'è ancora qualcuno qui dentro? No Ah, bene Emily Vuol dire che qui dentro non c'è più nessuno Dai, andiamo via da qui Oh Bene Io mi sono divertita tantissimo con queste palline Sono proprio gustose Adesso dove volete che vada a cercare? Nelle perline O nel jellybuff Oh Nel jellybuff Va bene Franci, vuoi venire con me? Oh, sì Mi piacerebbe tantissimo Ok Allora ti seguo Dunque Bisogna cercare qui dentro? Sì, esatto Franci, vuoi cercare tu? No, cerca di tu Ok Allora ti appoggio un attimo di qua Dunque Vediamo un po' Oh, mamma mia Ma questo è proprio gustoso Mmm Ma siete sicuri che avete nascosto qualcuno qui dentro? Mmm Vediamo Oh, mi sa di aver trovato qualcosa Oh, ma tu chi sei? Ciao Io sono un uccellino Mmm Sì, vedo che sei un uccellino Come ti chiami? Mmm Io mi chiamo Bluetto Mmm Bluetto? Un nome molto particolare Bene Allora adesso ti vado a mettere vicino a Francesco Ecco qua Tieni Franci Prenditi cura di lui Oh, sì Va bene, va bene Te continuo a cercare Va bene Mi sa, ma mi volete far sporcare le mani oggi, eh? Siete proprio due birichini Oh Che cosa abbiamo qui? Un gattino Quanto è carino questo gattino Ciao gattino Come ti chiami? Miau Miau Cleo Oh, che bel nome Bene Cleo Sono contento di averti trovato Ma di un po' C'è qualcuno ancora qui dentro? Miau Miau Sì Ah, va bene Allora guarda Ti appoggio vicino a Francesco E vicino al tuo amico uccellino Miau Miau Allora continua a sporcarmi le mani Mmm Vediamo 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 Oh, ma che cosa abbiamo qui? Una scimietta Tutta fucsia Ma quanto è carina questa scimietta Guardate Oh, sembra che stia ancora dormendo Forse è meglio non svegliarla Mettiamola direttamente vicino ai nostri amici di qua Ecco fatto Quindi, Franci, ho finito? Ah, sì, Emilia Hai trovato gli animali nel Jelly Buff E quindi è rimasto La piscina con tutte le perline Oh, che bello, che bello, che bello Però qui possiamo andare insieme a te A noi ci piace tantissimo Oh, sì, andiamo anche noi, Emilia Andiamo, andiamo Certo che potete venire Dai, fatemi strada Dunque, mi aiutate voi due A cercare? Oh, sì, che ti aiutiamo Oh, ma queste palline sono proprio gustose Oh, ci voglio giocare anche io Mi piacciono un sacco Ma c'è qualcuno qui dentro? Sì, sì, c'è qualcuno Dai, cercale Insomma, oggi mi volete proprio far lavorare Oh, ho trovato una tartaruga Tartaruga No, ma è troppo bella Ma quanto è carina Come ti chiami, tartaruga? Mi chiamo Lolla Lolla? Ma lo sai che avevo una tartaruga anche io come te E l'ho chiamata Lolla? Sei proprio, 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 proprio carina Lo sai? Mi piace tantissimo Sì, sì, sì Ti vado a mettere vicino ai tuoi amici di qua Ecco fatto Continuiamo a cercare? Oh, cerco io, cerco io Bravissima, Emy Dai, cerca Cerca bene Ho trovato qualcuno Brava, hai trovato un cagnolino Ciao, cagnolino Uff, uff Sei proprio bello Ma dì un po', come ti chiami? Io mi chiamo Romeo Oh, bene, Romeo Vai vicino ai tuoi amici Uff, uff Uff Franci, c'è ancora qualcuno qui dentro? Sì, Emy C'è ancora qualcuno? Mmm, bene, allora mi metto a cercarlo Voi due Mi metto di qua Così guardate bene Guardiamo un po' Ma a me mi sa tanto che qui dentro non ci sia più nessuno Mmm Oh, ecco Un altro cagnolino Ciao, cagnolino Come ti chiami? Uff, uff Uff, uff Nuvola Mmm, che bel nome, Nuvola Franci, ti piace? Oh, sì, mi piace tantissimo È proprio carino poi Bene, Nuvola Vai insieme ai tuoi amici Uff, uff Eccoci qua Ah, ma E loro chi sono? Oh, ciao Pizza Musk Siete arrivati un po' troppo tardi Ma tardi per che cosa? Eh, tardi per il gioco che abbiamo appena fatto con le Piniepon Ah sì? Che gioco avete fatto? Beh, le Piniepon mi avevano nascosto tutti questi animaletti Nelle perline Nel jellybuff Nelle palline colorate E io le ho dovute cercare tutti Oh, ma doveva essere un gioco molto divertente Ah, super pigiamini Mi dispiace che siete arrivati tardi Noi ci siamo divertiti un sacco Vero ragazzi? Mmm Beh, dai Non fai niente Sarà per la prossima volta Dunque, vediamo un po' Se i nostri Cari amichetti Ci hanno seguito bene Ho una domanda per voi Vediamo un po' Vi ricordate come si chiama la tartaruga? Sì? Ve lo ricordate? Allora mi raccomando Scrivetelo nei commenti Voglio proprio vedere se lo sapete Intanto vi salutiamo tutti Ciao bambini A presto! Grazie a tutti